Domenica 19 febbraio 2012, dopo 25 giorni di sosta forzata, il Seregno torna finalmente in campo e lo fa al Dante Ballotta di Fidenza in uno scontro diretto di importanza capitale. Mister Luciano De Paola per l'occasione opta per una formazione molto rinnovata rispetto all'ultima che aveva sconfitto nel recupero per 3-2 l'atletico Pro Piacenza con Samaretani tra i pali, Marte, Camigliano, Magrin, Viganò, Pavesi, Turchi, De Masi, Sarao, Cere e Piacentini. Esorde dunque la prima minuto per Camigliano sull'auto di sinistra al posto dello squalificato Mureno con Pavesi preferito a Grassi, De Masi a centrocampo al posto di Gritti e Turchi davanti al posto di Abele o Marin. In il Fidenza i bianconeri emiliani di mister Alberto Mantelli rispondono con Agosti, Bersanelli, Liverani, Petrelli, Piva, Santurro, Dallaglio, Pessagno, Trimarco, Casisa e Checchilo, Spauracchio, il pericolo pubblico numero uno per la formazione di casa. Dirige l'incontro il signore Rosario Zinzi di Catanzaro, gli assistenti la signorina Giampiere di Iesi e Morganti di Ascoli. Con gli highlight del primo tempo in cui il Serenio attacca da sinistra a destra in maglia azzurra al 17esimo minuto il cross di Marte, pericolosamente deviato da Piva, si esalta e non sarà l'unico intervento del suo incontro. Il numero uno di casa Agosti risponde il Fidenza poco più tardi. Bella azione sul fondo di Bersanelli che va via a Marte. Il suo traversone al centro viene respinto in qualche modo da Samaritani e poi sfera allontanata da Magrin. Si fa vedere ancora poco più tardi il Fidenza, si libera dalla conclusione Checchi, il suo sinistro a giro. Viene ancora una volta apparato da Samaritani ma sarà l'unico guizzo del primo tempo del Fidenza perché poi il Serenio cresce. Al 39esimo, bella occasione manovrata per il Serenio, Sarau per De Masi. Il suo destro dalla lunga distanza viene deviato in calcio d'angolo da Agosti. Corner successivo battuto da Piacentini. La deviazione volante di De Masi viene deviata in qualche modo dalla muraglia di giocatori in tenuta bianconera con la sfera che beffa Agosti sul primo palo e dunque al quarantesimo. Fidenza 0, Serenio 1, prima rete in campionato per il centrocampista classe 1989. Il Fidenza che prova a organizzarsi subito con Trimarco. La sua conclusione di destro è una vera e propria telefonata per Samaritani. Nel finale ancora azzurri pericolosi con Piacentini che si fa 25 metri, palla al piede. Il suo sinistro però assolutamente impreciso. Ed è questa l'ultima occasione dei primi 45 minuti di gioco con un ottimo Serenio. Ottimo Serenio che però sparirà completamente nella ripresa. Complice una tenuta fisica certamente non ottimale dopo i 25 giorni di sosta. Al tredicesimo sul cross di Casisa. Il sinistro, scusate, il destro molto molto bello da parte di Piva viene respinto con i pugni da Samaritani ma è un vero e proprio forcing dei padroni di casa. Qui ci provano ancora con Checchi. Il suo sinistro di controbalzo viene bloccato in due tempi da Samaritani. E al trentesimo punizione battuta in fretta da Pizzelli. Dall'Aglio che mette al centro per Trimarco. Il suo tapin Mancino è vincente e alla mezz'ora nel secondo tempo. Fidenza 1-1, Serenio 1 con il Serenio che davvero non riuscirà più a trovare modi per far male ai padroni di casa. Che è 4 minuti più tardi. Al termine di un'azione incredibile. Un batti e ribatti con Checchi che ci prova due volte e viene sempre respinto. Ma non Dall'Aglio che dopo l'assist per l'1-1 trova anche la rete che vale tre punti pesantissimi per i padroni di casa. Al termine di un'azione davvero roccambolesca nel quale gli azzurri hanno cercato di salvare la propria porta in almeno un paio di circostanze. Il Fidenza trova un gol importantissimo e deve ringraziare ancora una volta Agosti. Perché un minuto dopo sul colpo di testa ravvicinato di Sarau è davvero prodigioso l'intervento del portiere classe 1991. Non bastano i 5 minuti di recupero perché il signore Zinzi di Catanzaro a triplice fischio decreta una sconfitta davvero pesante per gli uomini di Luciano De Paola. La seconda battuta d'arresto sulla panchina del Serenio. Un serenio che dunque rimane ampiamente nella zona play-out alla vigilia del primo dei due incontri da recuperare mercoledì 22 febbraio sul campo del Voghera.